Entrare nella logica della coesione territoriale, restare uniti per risolvere i problemi che attanagliano il territorio e l'accorato messaggio che il Vescovo di Sumonaval Vangelo Spina lascerà ai sindaci della Diocesi nell'annuale incontro di fine anno che sederà il prossimo 11 dicembre alle ore 17.30 presso il Centro Pastorale Diocesano di Viale Roosevelt. Non solo doni da scambiare in vista del Natale, ma anche serie riflessioni da porre circa la mancanza di lavoro, lo spopolamento del territorio, l'indebolimento dei servizi essenziali. Su alcune questioni politiche per spirito democratico ci si può anche dividere, ma su altri aspetti è giunto il momento di superare la frammentazione e di diventare coesi in calza il presule. Il tempo di vivere una forte coesione territoriale, su alcuni aspetti si possono avere posizioni politiche diversificate e questo lo richiede un sistema democratico, ma poi su alcune cose bisogna essere tutti uniti perché solo così si salverà questo nostro territorio. Deve vincere le forme di frammentazione e deve trovare un forte senso di coesione. Monsignor Spina consegnerà ai sindaci l'enciclica di Papa Francesco, laudato sì, e tornerà a lanciare il grido d'allarme sul lavoro che manca e toglie la dignità all'uomo, soprattutto ai giovani che a 40 anni, prosegue il Vescovo, non hanno prospettive per il futuro. E' questa generazione arrivare a 40 anni, non avere un lavoro, non trovare un lavoro e non avere la prospettiva del lavoro. Questo, ce l'ha detto Papa Francesco, toglie la dignità. Nel corso dell'incontro si parlerà anche del Giubileo della Misericordia che durante l'anno farà tappa negli eremi, santuari e basiliche della diocesi di Summona Valva, con le celebrazioni giubilari. Sarà un'occasione per riconciliare i paesi che si spaccano per le elezioni amministrative, conclude Spina. Il Giubileo dovrà servire a recuperare le relazioni.